Ciao a tutti, sono ritornata con un nuovo video, questo è il cena per tutti i mesi che farò in collaborazione corale vi lascio qui sotto nell'info box il suo link così potete andare a trovare il suo canale e cominciamo subito Prima domanda, canzone preferita? Questa canzone si chiama Princess of China del Coldplay insieme a Rihanna Seconda domanda, profumo preferito? Il profumo preferito di questo mese è Hypnotic Poison ve lo faccio vedere ed è fatto così eccezionale Poi terza domanda, è il film preferito? Dunque è stato al cinema e io con il mio moroso sono state a vedere 21 Street Jump ed è stato molto bello, far ridere è stato bellissimo Poi accessori? Devo dire che questo mese non ho messo praticamente niente quindi nada Poi relazione è tutto posto scuola lavoro disoccupata cibo cibo, devo dire l'anguria e il melone anguria e melone Scarpe sono quelle dello scorso, ce n'è per tutti i mesi, di maggio Il trucco preferito è questo che indosso ora quindi occhi estremamente nude posso solamente appena appena un po' di mascara e labbra fucsia so che in videocamera non sembreranno molto flash ma praticamente il rossetto è di Deborah della linea Milano Red ed è un rossetto fucsia stupendo anche se probabilmente in videocamera ecco appunto non rende niente però veramente se è andato in qualche profumeria te lo devo vedere perché è un fucsia shock è stupendo poi pettinatura preferita niente i capelli così normalissimi mossi li faccio asciugare così senza mai accesso a niente al naturale quindi poi doccia time questa volta ho cambiato dunque voglio sfiuma è questo si vedrà? si di Mantovani ed è all'iris blu ed è buonissimo un profumo eccezionale poi visto che i capelli è abbastanza scuri ho voluto provare questo della Garnier che è all'ennè e azito di mora e per capelli scuri ha un profumo eccezionale anche questo qui è buonissimo sia shampoo che balsamo buonissimi poi smalti smalto ne avevo su uno delle essi vi metto la foto qui parola del mese parola del mese devo dire che non è una parola del mese perché altro magari è un modo in mezzo alla volta facciamo bua no è una specie di risata non lo so però non è proprio una parola del mese non lo so poi figura di merda del mese dunque devo dire che ogni volta che faccio una figura di merda me la dimentico mi ricordo questo mese ne ho fatta uno ho detto oh a mio amoroso ti rimane la mente che poi lo metto nel video però ovviamente non ci ricordiamo cosa più bella cosa più brutta del mese beh dai sarò bastarda però cosa più bella è che mia sorella va al mare con una sua amica dieci giorni la camera è tutta mia cosa più brutta boh non ci sono cose brutte no non ci sono cose brutte commenti del mese beh solito sinceramente non ho mai nessuno che mi scriva cose a parte Martina Patrizia che mi scrivono sempre poi per i rilassi non ho mai tantissime iscrizioni con nuove iscritte che mi scrivono chissà che cosa crisi del mese 423 grazie a tutti e fatto del mese è questa ora vi saluto vi mando un grosso bacio vi dico subito che il prossimo video sarà un momenapaghi e ci vediamo la prossima volta